Ok, allora, riproviamoci. Adesso si vede, per cui, diciamo, è sincronizzato. Ok, adesso, quante equazioni devo scrivere per questo circuito? Beh, io adesso non vi ho dato nessuno strumento per capire quante equazioni devo scrivere, per cui andiamo un po' per tentativi o in qualche modo per intulto. Ho queste variabili, io mi faccio un altro equilibrio, per esempio, di correnti, e allora l'equilibrio di correnti, dove sta? Eccolo qua, me lo posso fare qua, a questo nodo qua, lo faccio grande perché vediamo cosa chiede in entrata. Icon L, in uscita c'è Icon C, e poi, diciamo, ho la corrente che entra nella resistenza, non uso un'altra variabile e dico direttamente che è la tensione divisa la resistenza. quale tensione è sempre V con U. Ok, qua mancava un T qua. Ho finito, vediamo un po' quante variabili ho interconnesse fra di loro. Uno, due, tre, quattro, una marea, diciamo, apparentemente. Però, in realtà, diciamo che io sto usando sia Icon C che V con U, che a loro volta hanno un legame tra di loro. Qual è il legame che c'è tra di loro? Ok, allora qui io, in realtà, diciamo Icon C so che posso dire che è uguale a C per la derivata della tensione diviso Detti. Ok? E allora, a questo punto, diciamo, io noto che ci stanno meno variabili e che potrei fare, diciamo, quindi questo qua me lo faccio così. E potrei riscrivermelo un po'. Allora, vediamo un attimo. Guardate un attimo. Ho due derivate del primo ordine. E a questo punto dico, ok, però io faccio una definizione. X, la lineetta sotto quando sono, diciamo, alla lavagna vuol dire che è un vettore. Va bene? Quindi io dico che X di T per me è, che cosa? È uno stato che è formato da due componenti, x con 1 e x con 2. E che scelgo come due componenti? Ve lo dico io, diciamo, 99% delle volte lo stato sarà un dato del problema in questo corso. Va bene? Io scelgo proprio le due variabili che sono derivate. Metto cosa? I con L sopra e V con U sotto. Quindi io metto I con L di T e V con U di T. Ok? Ora, si vede ancora bene? Sì. Ora, che cosa posso fare? Io posso sostituire a queste equazioni che ho qui, a queste equazioni qui, molto semplicemente delle lettere, quindi non faccio niente di concettuale. L'ingresso lo chiamo U, lo stato lo chiamo X, e poi l'uscita, beh, l'uscita dipende da qual è il problema, l'uscita. In questo caso ho messo il pedice U sotto la tensione, evidentemente poi io decido che l'uscita e la tensione è qui. E quindi la chiamo Y e basta. Ok? Quindi a questo punto io faccio questi calcoletti e ho la tensione in ingresso, che è una U, e levo la variabile tempo solo per U uguale, qua c'ho Y più, questo è I con L, quindi L X punto 1, e qui ho X con 1 uguale C. Allora, questa qua sarebbe l'uscita B con U, però in questo caso io me la scrivo come X punto con 2, e poi capiremo perché, più, chiedo scusa, qua mi conviene anche qua scrivere più, mi conviene anche qua scrivere X2, quindi X2 su R, guardate un attimo che sto facendo, prima ve lo evidenzio, questa Y qua mi conviene scriverla anche qua come X con 2, ok? Per la Y poi facciamo l'equazione apposita. Ok. Però, così non mi piace, me lo riscrivo come? Mettendo X punto con 1 è uguale, siete ancora bene? X punto con 1 è uguale, meno 1 su L, e X punto con 2 è uguale a X1 su C, meno 1 su R, C, X con 2. A questo punto ci metto anche l'uscita, e dico Y uguale V con U, ossia X uguale Y uguale X con 2. Ok? Questo è il mio modello matematico. Perché l'ho messo in questa forma? Perché io voglio riportare tutto alla simbologia che utilizzeremo per la parte teorica, cioè ingresso, uscita Y, stato X, in maniera tale che poi è molto più semplice lavorare dopo. Ok? Allora, quindi questo è quello che abbiamo fatto, ecco qua, però adesso, ci trovo, ah, uno su L, ecco qua, qua c'era, ho dimenticato la L sotto la U qua, ok, però adesso c'è qualcos'altro che io posso fare, e che cosa posso fare? Lo spazio, sì, che cosa posso fare? Posso ricordarmi un po' matrici e vettori, perché scopriremo che le matrici sono molto importanti per i sistemi dinamici lineari, la rivediamo tra poco con la definizione di linearità. In particolare, se io ho al primo membro X punto, che sarebbe X punto uguale, allora io qui posso allora fatemi vedere, c'è spazio a voi, sì, lo vedete, posso scriverlo in questa forma qua, in cui devo capire questa matrice qua, che chiamerò matrice dinamica, A, quando sarà, e questa matrice degli ingressi B, che elementi metterci. Allora, guardate, cerchiamo di ricordarci un attimo il prodotto matrice per vettore, prima riga per prima colonna, prodotto scalare, prima riga per prima colonna, quindi, cosa ci devo mettere nella matrice A tale che moltiplica X con 1 e che mi ridà dove sta? E che mi ridà l'X con 1 che sta qui a secondo membro, qua non c'è X con 1 a secondo membro, quindi ci mette 0. quindi qua c'è 0. Cosa moltiplica X con 2 meno 1 su L? Quindi qua è meno 1 su L. L'equazione di sotto, X con 1 è 1 su C perché poi è seconda riga per e meno 1 su RC meno 1 su RC per X con 1. Per quanto riguarda la U, qua c'è 1 su L e qua c'è 0. Ma posso fare la stessa cosa anche con la Y. Y è uguale 0, 1, X che sarebbe X con 1 e X con 2. Va bene? Allora, che cosa ho fatto? Beh, ho scritto il mio modello matematico in forma matriciale. L'ho potuto fare perché? Beh, l'ho potuto fare perché questo modello matematico è particolarmente semplice. Che vuol dire semplice? Vuol dire che sono equazioni differenziali lineari che si chiama un'equazione differenziale lineare in matematica, in analisi. Cioè, cioè, guardate coefficienti reali costanti che sono i parametri del modello matematico e questo modello matematico mi consente di riscriverlo in forma matrice vettore. Perché mi interessa scriverlo in forma matrice vettore? Perché se io sono in grado di scriverlo in forma matrice vettore io X punto è uguale a X più BU Y è uguale CX più U Beh, io vuol dire che lavoro su un oggetto del genere indipendentemente da come ci sono arrivato e poi su questo sviluppo una certa teoria che posso applicare in una casistica molto ampia. Va bene? E faremo qualche esempio oggi. Per cui qui ci sta ci troviamo con i numeri qui ci sta quello che abbiamo appena fatto è stata rischietta in questa forma e se voi vedete è grassetto vettore grassetto minuscolo matrice grassetto maiuscolo A, B, C e D in questo momento non hanno la dipendenza dal tempo perché? Perché andiamone a guardare induttanza resistenza e capacità per ipotesi sono costanti sono degli elementi del circuito elettrico che abbiamo preso da un cassetto e sono costanti a questo punto la domanda potrebbe essere ma io qua ho diverse variabili interconnesse e la scelta di prendere la corrente nell'induttanza e la tensione è stata arbitraria cioè io l'ho fatta calare dall'alto ok ma se io avessi scelto per esempio due correnti cosa sarebbe cambiato mi rimetto a fare i calcoli ok e scopro che io ottengo un altro modello matematico in cui ho una matrice dinamica A' B' C' che sono diverse e allora è possibile che il mio modello matematico cambi in base a come scelgo in base a come scelgo queste variabili beh no non è possibile qualcosa cambia ma sono cose che impareremo a fare la scelta delle variabili cambia qualcosa sì è un grado di libertà che io posso sfruttare per capire meglio cosa sta succedendo nel mio sistema dinamico allora a quale domande io potrei essere interessato a rispondere qual è il comportamento dinamico di questo circuito elettrico per esempio come varia la tensione uscita applicando una tensione in ingresso al gradino beh il gradino ve lo ricordate no? perché l'ingresso al gradino diciamo si usa spesso in teoria poi in pratica non si usa nei gradini però fa capire molto posso chiedermi ma io ho un generatore di tensione da una parte e poi ho un voltmetro dall'altra perché la tensione in uscita la conosco per ipotesi e le correnti se io voglio conoscere l'andamento della corrente posso senza comprare altri sensori questa domanda è importante sia perché magari la corrente come ho detto prima potrebbe essere non fisicamente accessibile per metterci un amperometro magari non ho spazio non ho il volume per metterci l'amperometro oppure magari il mio circuito non è così banale e più sensori risparmio meglio è dal punto di vista ingegneristico quindi questa è un'altra domanda a cui impareremo a rispondere ma questa è ancora un'altra domanda questa è ancora interessante il mio ingresso è la tensione in ingresso B con I io posso assegnare arbitrariamente due grandezze la corrente nell'induttanza e la tensione in uscita impareremo a farlo sotto certe ipotesi però si può fare con un numero di ingressi P inferiore alle uscite anche allo stato io posso assegnare arbitrariamente e poi io devo prendere nel cassetto resistenza induttanza e capacità per fare questo circuitino che mi hanno detto di fare ma io non ho la stessa resistenza nel cassetto per ordinarla devo aspettare tre mesi posso prendere quella lì che è un po' vicino prima di prenderla collegarla e accenderla magari mi faccio la domanda e cerco di rispondere con quello che impareremo con un'analisi del mio sistema altro esempio questo non lo svolgiamo sulla lavagna perché diciamo concettualmente cambia poco rispetto a prima allora questo disegno sarebbe un motore elettrico non avevo l'icona del motore elettrico questo non lo so cos'è lampadare al contrario allora quali sono le equazioni del motore elettrico voi non l'avete studiato lo so lo chiedo ogni anno quindi adesso non lo chiedo più voi non l'avete studiato apro il libro di macchine elettriche e vedo quali sono le equazioni che regolano il comportamento di un motore elettrico io l'ho studiato ovviamente non mi ricordo perché però faccio un primo equilibrio qui è l'equilibrio delle tensioni quindi la tensione in ingresso è uguale faccio il giro dall'altra parte e sommo tutte le cadute di tensione va bene quindi ho la prima caduta di tensione ai capi del motore elettrico quant'è? boh per ora ci scrivo V e M ecco poi la caduta ai capi della resistenza che è R per la corrente che ci passa dentro ho usato una variabile quindi R per I e poi ho la caduta di tensione ai capi dell'induttanza L dei suddetti ok? il libro mi dice che io il circuito di alimentazione al motore elettrico lo posso modellare con un'induttanza e una resistenza ok poi non ho finito perché V e M chi me lo dà? beh io scopro leggendo diciamo le equazioni del libro che non lo posso fare così che la tensione elettromotrice è proporzionale alla velocità angolare del motore tramite una costante k di proporzionalità va bene? quindi ce la scrivo qua ok non ho finito perché? perché ci sta la velocità angolare del motore quindi adesso abbiamo un oggetto che si muove questo è un sistema elettromeccanico e chi regola il comportamento la rotazione diciamo del motore il secondo principio della dinamica e cioè la coppia la coppia nell'asse di rotazione è uguale l'inerzia per l'accelerazione angolare più l'attrito l'attrito è proporzionale alla velocità ok ho finito no chi mi dà la coppia beh sempre lo stesso libro mi dice che la coppia è proporzionale alla corrente tramite lo stesso k della forza contro elettromatrice ok chiudo il libro e lo metto da parte non ho bisogno di sapere nient'altro dei motori elettrici bene poi che faccio ho quattro equazioni però guardate ho due derivate rispetto al tempo del primo ordine e allora intitutamente già capisco che se io prendo questa il corrente come x1 e la velocità angolare come x2 me le porto al primo membro faccio due calcoletti algebrici una sostituzione ottengo due equazioni ecco qua fatto poi poi me lo scrivo nella variabile x y u perché perché sono fissato perché se io ce l'ho nella mia forma è più facile utilizzare gli strumenti che ho anche l'help del matlab è meglio diciamo portarlo nella forma astratta che ho studiato quindi x due variabili che sono i e la corrente e la velocità angolare ognuna con le sue brave unità di misura chi è l'ingresso vabbè questo è un dato del problema no? è la tensione in questo caso viconi qual è l'uscita a questo punto qual è l'uscita dipende io potrei essere intenzionato se questa è un'antenna all'angolo e basta la velocità non mi interessa basta che tu vai nell'angolo che ti dico io come dico io però qual è l'uscita se questo invece è un nastro d'asportatore a me interessa che velocità va non la posizione angolare del motore io voglio controllare la velocità ovviamente del angolare del motore in questo caso ho deciso che y è uguale a 1 ok? poi beh poi faccio le cosette che ho fatto prima e riscrivo ce lo risparmiamo perché sono veramente due conti e anche in questo caso scopro che lo posso mettere in forma matriciale ok? in cui ci sono i parametri che sono un po' di più rispetto a prima e ci sono alcuni parametri che sono meccanici l'inerzia e l'attrito altri che sono elettrici resistenza e induttanza e poi c'è un parametro che dipende dal motore elettrico quindi il motore elettrico me l'hanno dato conosco il K perché lo vado a leggere diciamo sul il data sheet del motore elettrico lo devo scegliere allora magari il K è il mio grado di libertà dipende da che cosa che problema diciamo sto affrontando ancora quali sono le domande che mi posso forre e alle quali impareremo a rispondere a questo punto la viconia a gradino diciamo la applico lo stesso però mi interessa un'altra cosa una velocità angolare cioè proprio il motore elettrico ancora i parametri sulla dinamica che cosa significa prendere un motore elettrico piuttosto che un altro cosa cambia cambia il K cambia l'inerza cambia l'attrito e se io ci metto un po' di lubrificante cosa cambia l'intuizione ce lo dice cosa cambia però lo possiamo vedere matematicamente chiaramente significherebbe avere il coefficiente di attrito che in questo caso è questo beta e da qui basta quindi io abbasso questo numeretto all'interno di tutto questo modello matematico che succede la posizione angolare come impostare un controllo impareremo anche a fare questo va bene è un secondo esempio quindi il primo era elettrico il secondo elettromeccanico a questo punto un modello partiamo da questo modello pre-daprilature e arriviamo al virus come ci arriviamo Volterra ha ipotizzato anni e anni fa questo modello matematico per rappresentare per descrivere la dinamica di una popolazione di prede e una popolazione di predatori nello stesso ambiente ecologico va bene avete una nicchia ecologica in cui ci stanno solamente queste due popolazioni prede e predatori come variano facciamo il ragionamento vediamo che ragionamento ha fatto Volterra la derivata delle prede vuol dire come cambiano le prede quanto cambiano le prede vuol dire la dinamica delle prede sinonimi quando io dico la dinamica di una variabile sto dicendo il suo andamento nel tempo cioè la sua derivata ok allora lui dice ok io ho una popolazione di prede la prima cosa che vedo è che aumentano in maniera proporzionale alla grandezza della popolazione si riproducono bene questo numeretto a è un numeretto positivo quindi quindi la derivata è positiva e crescente però poi ci sono due fenomeni che fermano questo ragionamento il primo è un fenomeno legato alla stessa popolazione senza i predatori è vero che io aumento però a un certo punto viene meno la risorsa alimentare per cui devo avere un fattore che mi fa diminuire questa crescita di popolazione non può crescere all'infinito e allora lui che cosa ha pensato ha pensato di metterci un meno con un coefficiente positivo e di legarlo al quadrato della popolazione perché faccio un disegnino veloce e capiamo perché diciamo ha fatto questa cosa ora per farlo velocemente forse mi conviene definire un bordo un bordo non so se l'ho fatto più velocemente o no così no non vuole il tempo allora allora perché beh per un motivo di analisi uno e cioè che se io ho qui x e qui y questo è y uguale a x e questo ma non va sotto l'ho fatto male è y uguale k x 4 la retta è dominante per piccoli x e la parabola è dominante per grandi x per cui questo vuol dire ovviamente i coefficienti servono per determinare la pendenza e di tutte e due per cui cosa significa significa che a un certo punto io avrò che non cresce più la popolazione cos'è anche che no è un po' di ostacolo bei predatori in che modo beh lui ha pensato in modo proporzionale al prodotto in x 1 per x ok dinamica dei predatori i predatori invece beneficiano del fatto che ci siano molte prede quindi c'è un fattore che fa crescere la popolazione dei predatori e però i predatori devono essere pochi e quindi c'è un fattore che fa decrescere e lo mette anche lineare che vuol dire che è più forte di questo quadratico va bene perché anche per piccoli numeri è più grande lineare rispetto al quadratico ok fatto questo modello modello diciamo basico poi la letteratura specifica c'ha tante altre cose e uno può diversirsi a studiare se è valido o meno è valido? allora guardate questo grafico a sinistra c'è una simulazione che vi fa vedere come variano se io prendo delle volpe e dei conigli metto dei numeretti ragionevoli non entriamo nel dettaglio di come ho trovato i numeretti quelli che ha i numeretti sarebbero a, b, c, d e k cioè i parametri del modello questo è un esempio in cui questa k non è il tempo va bene e siccome l'ho presa dal libro da un articolo forse è bene che la prossima volta metto una i perché non c'è motivo per non avere la i va bene se faccio la simulazione viene questa cosa strana qua che voi non avete mai visto in fondamenti di sistemi di rinforzo un andamento del genere che voi non l'avete mai visto e perché non l'avete mai visto? guardiamo questa equazione differenziale non l'ho scritto in forma matriciale perché non l'ho scritto in forma matriciale? perché non è il lineare quali sono le sorgenti di non linearità? le riuscite a individuare? quadrato solo il quadrato allora le non linearità quindi come sappiamo possiamo avere solamente la sommatoria delle variabili e delle loro derivate con coefficienti reali costanti queste sono le uniche cose che posso avere lineare in un'equazione differenziale quindi io qua ho due sorgenti di non linearità è inutile che provo a fare il modello matriciale per cui questo qua è un andamento che voi non avete mai studiato anche in questo corso noi faremo quasi tutto lineare la non linearità nei sistemi dinamici richiede degli studenti matematici un po' più avanzati che si fanno durante dei dottorati ma non si fanno diciamo quasi dappertutto nella laurea magistrale allora questa è la simulazione ma questa simulazione quanto è ragionevole? vabbè sì il buon senso viene soddisfatto nel senso che qua uno sono i conigli in blu e sono in rosso le volpi e quando uno cresce no poi cresce poi decresce se fate il ragionamento vi trovate che è giusto così e beh guardate questo qua è un famoso risultato diciamo di non so chi che si è messo a fare una stima della popolazione di linci che sono predatori e coniglie nella baia di Hudson come l'ha fatta nel 1845 nel 1885 come ha fatto questa stima? ha visto che esistevano i registri delle pelli di linci e coniglie che sembravano abbastanza accurati per cui lui con i registri diciamo delle pelli ha fatto una stima di quale poteva essere la popolazione durante questi quasi 100 anni e beh l'andamento non è molto non è molto lontano ok? quindi è stata una prima validazione diciamo di questo modello perché ci può interessare? beh perché abbiamo visto in tutte le salse descrivere la diffusione del virus beh le diffusioni dei virus sono diciamo tipicamente un modello rappresentato da modelli matematici della stessa famiglia di quello preda-predatore io qui ne ho preso uno semplice e vi faccio vedere qualcosa che è interessante rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo anno in Italia nel mondo allora questo è il modello cosiddetto SIR dove S sta per S per S SIR 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 Grazie a tutti.